Cristo risorto, buongiorno fratelli e sorelle. Anche oggi attingiamo forza, nuovo vigore dalla parola di Dio. Abbiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 16, dal versetto 24-28. Allora Gesù disse ai Suoi discepoli, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre Suo con i Suoi angeli e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno, prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Amen. Ecco carissimi, siamo al capitolo 16 di Matteo, successivamente a due fatti abbastanza importanti. Il primo è di quando Gesù chiede ai Suoi discepoli chi dice la gente che io sia e Pietro dice tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Quindi c'è Pietro che fa la sua professione di fede. E allora Gesù prende spunto e gli dice su di te Pietro edificherò la mia chiesa. Ma subito dopo Gesù dice sto per entrare a Gerusalemme, lì io dovrò soffrire, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro dice maestro questo non ti accadrà mai. E allora Gesù dice lungi da me Satana perché tu non pensi secondo Dio. Quindi due fatti importanti. Da un lato la proclamazione di Pietro in Gesù, il Messia, il Figlio di Dio. Dall'altro Gesù che annuncia quello che sta per fare, Pietro che non ci crede. E Gesù gli dice non pensare secondo l'uomo ma secondo Dio. ecco che qui allora Gesù parla di questa esperienza, di queste condizioni per seguirlo. E trae quindi spunto da ciò che ha appena detto. Il Figlio dell'uomo deve soffrire molto da parte degli anziani, dei sacerdoti, venire ucciso e risorgere. E subito dopo dice ciò che coloro che lo seguono devono adempiere, delle condizioni. Innanzitutto chi vuole seguirmi, allora siamo compresi sia io che tu, cioè tutti i cristiani. Non è solo chi vuole fare un cammino più forte nella fede. Le condizioni per seguire Gesù sono di tutti i battezzati, tutti coloro che hanno riconosciuto in Cristo il loro Signore. A me? Dobbiamo farlo presente perché non è solo per i sacerdoti, per i consacrati, per le suore, è per tutti. Se qualcuno vuole venire dietro a me, quindi questo invito, questo annuncio di oggi, fratelli e sorelle, è per tutti. È universale. Per tutti i cristiani, qualsiasi denominazione siano. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E questa sequela, in qualche modo, corrisponde alla sequela, la sequela di Gesù quando è venuto nella carne, in mezzo a noi, e ha voluto seguire il progetto del Padre. Ma ce l'ha rivelato poco prima, quando c'è l'annuncio della morte e della risurrezione. Gesù è venuto, quindi nel mondo, e lo ricordiamo di solito nel Natale, è venuto, ha rinnegato se stesso. La prendiamo dalla lettera dei Filippesi, capitolo 2. Gesù si è svuotato. La sua condizione di Dio, di divinità, l'ha svuotata. È stato appeso sulla croce, perché sulla croce ha manifestato il suo amore per noi ed ha seguito la volontà del Padre. È il progetto del Padre che noi fossimo salvati. E allora dice che le nostre condizioni per seguire Lui sono le stesse condizioni per le quali Gesù ha seguito il Padre. Cioè, rinnegare se stesso significa mettere al primo posto Dio nella nostra vita. Significa che è Lui, crediamo, che si prende cura di me. È Lui il buon pastore, è Lui il Padre misericordioso, è Lui il mio tesoro, la mia ricchezza. Rinnegare se stesso non significa rinunciare alla mia vita, rinunciare ai piaceri, rinunciare a una bella vita. È l'opposto, fratelli e sorella. Questo direbbe il mondo, segui Dio, sei uno sfortunato, segui Dio, fai una vita misera, non godi dei piaceri della vita. Non è così, fratelli e sorelle. Gesù ci ha indicato la via, anzi Lui stesso ha detto, io sono la via, la verità e la vita. E seguire Lui significa che Dio ci chiama a rinunciare a tutto quello che è egoismo, a tutto ciò che appartiene alla carne, perché Dio ci vuole dare molto di più. E quando noi rinneghiamo noi stessi, non perdiamo nulla, fratelli e sorelle. Anzi, perdiamo soltanto, e questa è una buona notizia, tante angosce, tante ansie nella nostra vita, tanti problemi inutili. Quindi rinnegando noi stessi, e cioè mettendo Gesù al primo posto, noi viviamo meglio. Il mondo non lo può capire questo. Il mondo pensa che se io penso a tutta la mia vita, se io mi faccio della mia vita, della mia famiglia, della mia attività, quello che voglio, imbrogliando, rubando, eccetera, vivrò meglio. Non è così che funziona. È per vivere bene. Abbiamo bisogno di rimettere la nostra vita nelle mani di Dio, come Gesù lo ha fatto, nelle mani del Padre, fidarci del Padre. E allora dirle, Signore, dal mattino io metto da parte la mia stessa vita, la mia famiglia, il mio lavoro, i miei problemi, tutto per fare di Te il mio Signore. Ecco, rinnegare se stessi. Non vuol dire rinunciare a ciò che sono, ma significa mettere per primo il Signore Gesù. E in questo modo stiamo prendendo la nostra croce. Cioè, tutto ciò che viene è la conseguenza del seguire Gesù, fratelli e sorelle. Perché seguendo Gesù possiamo avere davvero delle situazioni difficili, ma possiamo anche avere delle situazioni in cui il nostro uomo carnale ci pesa, ci appesantisce. E in questo prendere quindi la nostra croce c'è la sequela di Gesù. Gesù queste tre operazioni, diremo, rinnegare se stesso, prendere la croce e seguirlo, ce le ha mostrate concretamente. Quindi ci chiama ad essere a sua immagine e somiglianza, imitare ciò che Gesù ha fatto qui sulla terra verso il Padre. E poi è chiaro, dice, chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. E qui c'è, potremmo dire, la chiave del successo. La chiave del successo di ogni cristiano. Per guadagnare la vita, fratelli e sorelle, la dobbiamo perdere per lui. È un controsenso, è una contraddizione. Ma sappiamo che in questo consiste il progetto di Dio. È Cristo che si è donato, si è svuotato per essere riempito. E Lui si è riempito, si è caricato di tutti noi, dei nostri problemi, delle nostre situazioni, e a noi chiede di fare la stessa cosa, di svuotarci. Ecco perché perdere la vita. Non si tratta di buttarci giù da qualche parte o di toglierci la vita, ma si tratta di svuotarci per essere riempiti da Lui. Svuotarci di tutto ciò che è umano. E questo lo facciamo solo con la preghiera. Lo facciamo invocando lo Spirito Santo, il Consolatore, colui che ci guida per la retta via. Ecco perché quindi oggi trovare la vita significa perderla per Gesù. Significa svuotarci per essere riempiti da Gesù. È una contraddizione e il mondo non lo può capire. Non può capire che se noi ci doniamo al Signore, viviamo meglio. Se io affido la mia famiglia al Signore, affido la mia attività, affido il mio lavoro, affido la mia salute, ecco perdere. Non significa buttare via la vita. Ve lo testimonio io che dall'età di 15 anni, quando il Signore mi ha chiamato, io ho detto, Signore, la mia vita la offro a Te, la dono a Te. Per il mondo l'ho persa, ma io posso invece testimoniarvi che l'ho guadagnata. Ho trovato la vera vita, una vita bella, una vita fatta di successi, perché con Dio ci sono solo successi, su ogni problema, su ogni situazione, su ogni malattia, su ogni crisi, su ogni difficoltà. Ecco che perdere la vita quindi significa accogliere ciò che Dio ci dona, accogliere ciò che viene dall'alto. È Gesù che quando parla a Nicodemo gli ha detto se uno non rinasce dall'alto non può essere una nuova creatura. E allora, fratelli e sorelle, oggi è l'invito del Vangelo ad accogliere il Signore Gesù nuovamente, ma ad accoglierlo con sincerità, ad accoglierlo con tutto noi stessi, ad accoglierlo perché sappiamo che donandoci a Lui, Lui ci riempie. Svuotando noi stessi, Lui ci dona qualcosa di più. Ma la fiducia più grande che dobbiamo avere è che Dio non toglie mai nulla. E come dice quella bellissima frase nei Promessi Sposi, Lucia insieme a Renzo, che dovevano uscire dal loro paese perché non potevano sposarsi, il Signore non toglie mai una gioia se non per darne a noi una di più certa e vera, una di più grande. Ecco che la vita in Cristo è così. Cristo non ci toglie mai nulla nella nostra vita. Dio non ci toglie nulla. E se ci pare che qualcosa ci sia stato tolto, anche qualche persona, anche per un lutto, ma Dio ci dona qualcosa di più grande. Ci riempie, ci dona una pienezza. Quindi preghiamo insieme, apriamo le nostre mani, rivolgiamo i nostri occhi al cielo e le diciamo Vieni, Signore Gesù, io oggi sono qui di fronte a Te, Signore. E voglio proclamarti mio Signore, mio Salvatore, colui che si è svuotato per riempirmi, colui che anche oggi ha preparato qualcosa di grande. Signore, ti presento anche le mie paure nel donarmi a Te, nel donare e offrire a Te tutto quello che io sono, quello che siamo nelle nostre case. Signore, voglio avere fiducia che perdendo la mia vita per Te ne guadagno una nuova e Ti voglio affidare quelle situazioni più difficili che ho voluto da solo tenere, che ho voluto da solo guidare, controllare. Signore, controlla Tu la mia vita, controlla Tu la mia famiglia, controlla Tu quello che io faccio perché io possa sperimentare anche oggi stesso una nuova benedizione, una nuova vita. E grazie per il dono della Tua salvezza che anche oggi è pronto per me. A Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata da parte mia e dalla Cognonia Giovanni Battista, Oase di Piella. Ciao, a domani. Scusate, rispettare la tua gloria, rispettare, rispettare, rispettare la tua gloria, rispettare, rispettare, rispettare la tua gloria. Sarai, sarai, segno di unità e di gloria, sarai, casa di regia, la notte vedi, perché, la notte avverso il cuore, ti parlo attraverso il cuore.